Ovviamente continuiamo a parlare di sport, ma in questo caso di sport femminile. Lo facciamo insieme a Silvia Gottardi. Ciao Silvia, ben ritrovata. Ciao, buongiorno a tutti. Ex dressista A1, hai vestito anche la maglia azzurra, ma oggi ti ritroviamo nei panni di regista di un documentario. Sì, She Got Game, che è anche il nome del mio blog. L'abbiamo finito con Anita Zanirato e siamo molto contenti di quello che abbiamo prodotto. Devo ringraziare tutte le campionesse sia del passato che del presente, insomma tutte le cestiste da Mabel Bocchi, Caterina Pollini, Masciadri, insomma un po' tutte hanno abbracciato questo nostro progetto. Parliamo di pallacanesso femminile ovviamente, che purtroppo è uno sport in Italia. La pallacanesso che appunto nella sua veste femminile è un po' bistrattata, insomma non se ne parla tanto, non c'è tanta visibilità e ci sono tante etichetti che ci vengono attaccate. Quindi insomma siamo dei maschiacci, eccetera, eccetera. Quindi noi vogliamo con questo documentario scrollarci un po' di dosso le etichette e far conoscere di più questo sport che secondo noi è bellissimo anche in chiave femminile. Quindi non soltanto il basket femminile, ma abbracci comunque anche il tema dello sport femminile in generale. Assolutamente sì, siamo partiti ovviamente dalla pallacanesso perché è lo sport che conosciamo meglio, ma poi siamo un po' ritrovati a parlare di quelle che sono le problematiche più generiche insomma dello sport femminile italiano. Nel documentario ci sono anche Cabrini, c'è Sara Errani, c'è Martina Rosucci. Parliamo di pari opportunità diciamo nello sport, parliamo di binomio fra femminilità e sport, parliamo di professionismo, parliamo un po' di tante cose. La tua riflessione va oltre diciamo un po' i soliti stereotipi, cioè non esistono sport più femminili di altri o meno? Ma è proprio quello, è l'obiettivo diciamo uno degli obiettivi del documentario. Noi crediamo appunto che queste etichette, questi pregiudizi non abbiano senso, quindi vogliamo essere diciamo lasciate liberi di scegliere lo sport che più ci piace perché crediamo che il gesto atletico sia la cosa più importante qui in campo. Noi siamo delle atlete e fuori dal campo poi è un'altra questione. Ma in tutto il mondo si ragiona così o soprattutto in Italia? Noi abbiamo fatto delle ricerche abbastanza approfondite appunto per questo documentario, abbiamo visto che in termini di iscrizioni delle donne, quindi partecipazione alle varie discipline sportive, in Italia c'è un po' un'anomalia. Quindi calcio femminile, pallacanestro femminile sono in Italia che sono poco praticate, quando invece all'estero sono gli sport che vanno per la maggiore per le donne, quindi basta pensare al calcio negli Stati Uniti, alla pallacanestro, anche in stati che sono più simili a noi, quindi come la Spagna, come la Francia, come la Grecia. Quindi noi vogliamo insomma far sì che le ragazzine si appassionino a questo sport perché è bello, è vero, c'è il contatto fisico quindi un po' più rude, però insomma questo non vuol dire che siamo meno femminili o meno donne perché pratichiamo uno sport di contatto. A proposito di questo si può approfondire anche da un punto di vista legislativo diciamo perché c'è una legge recente che vuole far rientrare lo sport femminile all'interno delle attività svolte ai fini professionistici. Sì ma questa è un'altra delle anomalie tipica dell'Italia, insomma qui da noi nessuna atleta dalla pennetta a Masciadri a chiunque è considerata professionista, c'è un progetto di legge, vedremo come andrà a finire, insomma le calciatrici anche spesso scioperano, si lamentano per questo, noi crediamo ovviamente che sia giusto avere delle tutele per delle donne che comunque svolgono una professione. Chiaramente adesso poi vedrete, spero il documentario, mi dilungherei troppo con le normative che c'è adesso, è impossibile una cosa di questo genere, però noi speriamo che poco piano piano si cambi la situazione. Dicevi prima maternità, parlavamo anche di Serena Williams, in Italia una giocatrice di pallacanestro o comunque una professionista fa fatica ad avere un figlio perché vuol dire perdere la stagione agonistica, vuol dire poi fare dei sacrifici, rientrare magari con uno stipendio diverso, quindi sono tutta una serie di problematiche che non sono solo tipiche della pallacanestro ma anche di tutto lo sport femminile. Senti Silvia, alle donne basta essere vincenti o devono essere anche belle nello sport? Ecco questa è un'altra tematica, diciamo che in Italia noi crediamo e lo diciamo anche col documentario che purtroppo le donne devono anche essere belle, oltre che vincenti siamo in un paese forse ancora un po' troppo maschilista, quindi non si guarda solo all'aspetto tecnico e ai risultati e speriamo che le cose cambino anche in questi termini. Ma da cosa nasce esattamente l'idea di questo progetto? Cosa ti ha spinto a fare un documentario? Sicuramente adesso io gioco ancora in serie B al basket femminile Milano ma sto finendo la mia carriera sul campo da gioco, di base con Annalisa. Intanto stiamo vedendo anche parte del trailer, cioè tu praticamente racconti, sei una buffa al femminile, diciamo. Sì insomma magari il maestro, mi piacerebbe. Come abbiamo detto prima ci sono tante tematiche, io cerco di introdurle facendo un po' da filo conduttore. Tornando a quello che mi hai chiesto prima, la base ovviamente è questa grande passione, questo amore smisurato per questo sport. È uno sport bello e vorremmo che non fosse così diciamo distrattato, quindi l'idea è di dargli visibilità e dargli anche più dignità, perché io credo se lo meriti. Le ragazze, anch'io, facciamo tanta fatica sui campi, come lo fanno giustamente altre donne, altri atleti, come lo fanno gli uomini e quindi ci piacerebbe essere rispettate prima di tutto. E certo, la speranza è di ottenere diciamo anche l'attenzione che merita. Ti volevo chiedere anche, noi abbiamo guardato il trailer anche in redazione, ci ha colpito molto la canzone che entra proprio in testa. Di chi è? Eh sì, allora, devo ringraziare Sonia che è una cantautrice, che ci ha regalato testo e musica, appunto appropriatissima per la colonna sonora. La particolarità è che oltre a lei che è una professionista, Giorgia Sottana che è insomma la stella di Schio e anche della Nazionale, canta il ritornello, il rap, quindi questa è un po' anche una novità perché questa ragazza si è cimentata in una cosa nuova, poi nella colonna sonora c'è un altro rap fatto tutto da lei, quindi adesso pian piano metteremo sui nostri canali anche c'è un video musicale apposta suo e sono contenta che vi piaccia. Sì, sì, se farsi in redazione è già la canticchiana. Sì, sì, sono molto contenta, ripeto, ce l'ho regalata, è stato un grande piacere perché ovviamente è stato un documentario che essendo una cosa di nicchia ha fatto un po' fatica, quindi adesso speriamo che pian piano possa anche lei avere un ritorno. Silvia, ricordiamo che il film sarà presto anche nelle sale, ci dai tutti gli appuntamenti? Sì, allora domani sera siamo al Fix Film Festival qui a Milano e partiremo il 2 da Vicenza, quindi all'ora 19 al Cinema Audio nella prima proiezione, poi man mano metteremo anche sul sito che è shegotgame.it le varie date, ovviamente saranno cinema e città selezionate, insomma amanti del basket e anche amanti del basket femminile. Perfetto, grazie Silvia per essere fatta con noi. Grazie a voi.